eccoci qui siamo in un momento di criticità per un semplice autobus guardate guardate le manovre nonostante la circonferenza sia stata ridotta di un buon metro permane la criticità di questo incrocio e di questa rotonda nonostante il traffico sia di poca entità vedremo quando riapriranno le scuole oggi è 31 agosto